aspettate mi scacca il cambio stanza ragazzi abbiamo una novità per il canale una novità una di queste ovvero l'unità è questa guardate lo vedete io la prendo e la sposto avete visto è bellissimo ragazzi ho scoperto delle nuove abilità di editing vedete questa scritta è quello che dovete fare voi schiacciare il mi piace ragazzi iscrivetevi se volete vedere altro editing con kinemaster scaricate kinemaster in pratica ho imparato a editare meglio ho scoperto nuove funzioni ciao